Terra Amara Anticipazioni che riprendono le puntate, che andranno in onda dal 27 al 30 luglio. Yilmaz e Demir entrano in conflitto riguardo alla questione della paternità di Adnan. Durante il loro scontro la vita del piccolo è in grave pericolo in seguito a uno sparo. Durante una cena in famiglia, Yilmaz trova il momento opportuno per condividere con tutti la sua decisione. Prima di farlo però, desidera esprimere le sue scuse a Fekeli Beige e Fikret per averli costretti ad assistere alle intense discussioni e liti fra lui e sua moglie. Akhaia prosegue con il suo discorso rivolgendosi direttamente a Mujgan riconosce che non ha senso continuare a essere legati da un matrimonio che ha perso il suo significato per questo comunica. Desidero il divorzio, per nostro bene e soprattutto per il bene del nostro figlio. Insiste, sottolineando che sarà sempre presente nella vita del figlio. Akhaia aggiunge anche che intende discutere con il suo avvocato per accelerare il processo di divorzio, ma si rende conto che Mujgan non gli faciliterà le cose. Poco dopo, la dottoressa parla con sua zia e spiega che non ha alcuna intenzione di separarsi poiché non vuole vedere il marito ricadere tra le braccia di Zuleya, Beige consiglia a Mujgan di smettere di pensare a Zuleya e di concentrarsi sulla salvaguardia del loro matrimonio, tenendo conto anche della minaccia rappresentata da Fikret. Nel frattempo, Demir torna in villa carico di regali e con l'intenzione di riunirsi con sua moglie e i suoi figli, tuttavia la tensione raggiunge l'apice quando quest'ultimo pieno di rabbia interroga Zuleya sul piano di fuga. Quella notte, grazie al sostegno della matriarca, Zuleya confessa a Demir che Yilmaz sa che Adnan è suo figlio e che è giunto il momento di porre fine al loro matrimonio. Un discorso logico e sensato, ma che Demir non è disposto ad accettare. Infatti anche lui rifiuta la proposta di divorzio. Adesso non è più un segreto che Adnan sia figlio di Yilmaz, ma la rivelazione di Zuleya cogli Demir di sorpresa, poiché ora è convinto più che mai che Akkaia possa rivendicare la paternità del piccolo Adnan. Determinato a mantenere il controllo su Adnan e a non permettere a Yilmaz di portarlo via, Demir decide di organizzare una sontuosa cerimonia di circoncisione per il piccolo e non esita a invitare l'intera città a partecipare, nonostante sia Zuleya che Unkar cerchino di persuaderlo sull'età prematura del ragazzino, sebbene lo Yaman fa sapere a loro che ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di cambiare idea. La mattina seguente Demir annuncia questo evento in città, in modo che tutti ne fossero a conoscenza. Di solito, nella tradizione la circoncisione viene eseguita intorno ai dieci anni. Per questo Zuleya crede che suo marito cerchi di sfruttare il piccolo Adnan per dimostrare la sua supremazia. Poco dopo questa notizia arriva alle orecchie di Yilmaz tramite Cetin. Akai, arrabbiato, si precipita in villa Yaman per affrontare Demir e reclamare la paternità sul bambino. Con una voce carica di preoccupazione, Yilmaz si rivolge a Demir, ponendogli una domanda diretta. Che intenzioni hai nei confronti di mio figlio? Voglio che tu sappia che non lascerò questa villa senza Adnan al mio fianco. Durante il confronto fra loro, Yilmaz tira fuori la pistola. Tuttavia nessuno dei due è a conoscenza del fatto che, nel frattempo, anche Adnan si trova nella stanza da letto e sta pericolosamente giocando con la pistola di Demir in modo totalmente inconsapevole. L'atmosfera si carica di tensione mentre un colpo echeggia. Tutti in sala se ne accorge che lo sparo non proviene dall'arma di Yilmaz. Ora la domanda che si pongono è, chi è stato a sparare? Inaspettatamente, mentre Adnan si trovava nella sua stanza, in attesa della cerimonia di ciò che avrebbe dovuto accadere, ha afferrato la vera pistola con cui stava giocando e ha premuto il grilletto. Mentre Demir e Yilmaz si trovano in un acceso litigio, un colpo di fuoco improvviso interrompe il loro confronto lasciando tutti sconcertati. Adnan verrà trasportato d'urgenza in ospedale mentre Zuley avvive una sofferenza indescrivibile come madre. Nel vedere suo figlio lottare per la vita e ogni istante che passa sarà un'agonia per lei. Poco dopo, Mujgan arriva in ospedale e Zuley avviene colta da un accesso di nervi quando scopre che anche la dottoressa sarà presente all'ambulatorio dove sarà operato suo figlio. La protagonista crede che Mujgan possa danneggiare Adnan in qualche modo. In uno stato di profonda angoscia e paura per le condizioni del figlio Zuley Zuley ritiene che Demir e Yilmaz siano il responsabile di quanto accaduto. Ore dopo l'atmosfera in ospedale e carica di tensione a seguito degli eventi che hanno coinvolto Adnan, Yilmaz e Demir sono in attesa all'ingresso della sala operatoria, sperando di ricevere notizie rassicuranti. Nel frattempo, Zuley è piena di nervosismo e agitazione. Tutti aspettano notizie sull'esito dell'intervento. Dopo diverse ore, i medici arrivano con un sorriso e notizie incoraggianti. Il bambino sta molto bene e si riprenderà, confermano. Zuley, piena di gioia e gratitudine, si avvicina a uncare la braccia con forza. Ringraziando il cielo che suo figlio sia al sicuro e in buone condizioni, anche Demir e Yilmaz esalano un sospiro di sollievo. Mentre Zuley arresta al capezzale di Adnan, Yilmaz e Demir entrano nella stanza desiderosi di vedere anche loro il bambino. Tuttavia Demir, pieno di ostilità, si rivolge a Yilmaz chiedendo cosa fai lì, affermando che Adnan è suo figlio poiché è stato proprio lui a vederlo venire al mondo. Yilmaz non esita a rimproverarlo per aver rubato suo figlio, e ribadisce che Adnan si è sparato giocando con la sua arma. Davanti a questo nuovo confronto, Zuley apprende la decisione definitiva di escludere Yilmaz e Demir dalla sua vita. Questa scelta implica una separazione totale e irreversibile, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la protezione della vita di Adnan. Demir e Yilmaz si guardano, consapevoli che in fondo Zuley ha ragione. Un care fecheli sono presenti durante la scena e chiede loro di andarsene e riflettere sulla loro rivalità e sui loro litigi, spiegando che ancora è il momento riconsiderare ciò che è accaduto e firmare la pace.